Una giornata per dare voce alle vittime della crisi e a chi in Italia vive in condizioni di indigenza. Libera e Gruppo Abele portano in piazza Montecitorio la campagna Miseria Ladra. L'occasione è la giornata mondiale per l'eliminazione della povertà. Dall'inizio della crisi del 2008 al 2013, se guardiamo i rapporti Istat, purtroppo la povertà è raddoppiata. Quella relativa, la povertà assoluta è addirittura quasi triplicata. Abbiamo 10 milioni di persone che vivono in povertà relativa, significa vivere con 506 euro al mese o se si è in coppia con 775 euro al mese. E abbiamo addirittura 6 milioni di persone in povertà assoluta, indigenti, ciò che non ce la fanno ad arrivare a fine mese, che sono considerate in deprivazione materiale grave. Siamo maglia nere in Europa per ciò che riguarda la povertà minorile, pensate 1.423.000 minori italiani e italiane in povertà assoluta. Una giornata per ribadire possibili soluzioni a livello locale, nazionale e comunitario, dal reddito minimo per una vita dignitosa all'uso sociale dei beni confiscati, dallo stop alle politiche economiche di austerity al piano europeo straordinario per lo sviluppo sostenibile e l'occupazione. In piazza per miseria ladra anche l'attore e regista palermitano Luigi Rocascio, che ha recitato una poesia di Ignazio Buttitta, ma anche testimonianze dirette di chi, con la povertà, fa i conti ogni giorno.